Sì, dai, allora, qua c'è la situazione dei fotografi, vedete visto? Allora, noi suoniamo, se la cosa vi piace venite più avanti perché io ho messo le lente a contatto e non ci vedo un belino, quindi se gentilmente poi venite qua e vi faccio ballare, mi fa più piacere. Sì, dai, allora, qua c'è la situazione dei fotografi, vedete? Sì, dai, allora, qua c'è la situazione dei fotografi, vedete? Sì, dai, allora, qua c'è la situazione dei fotografi? Sì, dai, allora, qua c'è la situazione dei fotografi? Sì, dai, allora, qua c'è la situazione dei fotografi? Sì, dai, allora, qua c'è la situazione dei fotografi? Sì, dai, allora, qua c'è la situazione dei fotografi? Sì, dai, allora, qua c'è la situazione dei fotografi? Sì, dai, allora. 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 Sì, dai. Sì, dai, allora. 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 Sì, dai. Sì, dai, allora. Sì, dai, allora. Sì, dai. Sì, dai, allora. 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 Sì, dai. Sì, dai, allora. Sì, dai, allora. Sì, dai. Sì, dai, allora. Sì, dai, allora.